Riscattata la sconfitta di Bicelli e grande corato quest'oggi, una considerazione sulla partita? Devo fare solo i complimenti, oggi consentitemi il termine, abbiamo mostrato di avere delle grosse palle sotto perché non era facile in una partita complicata per le assenze che avevamo. Avevamo due giocatori squalificati, tre giocatori squalificati, avevamo un giocatore infortunato, tutti grandi e noi non ce lo possiamo concedere di non avere quattro o cinque grandi se poi i grandi sono sei o sette per cui ammettendo che siano grandi i 2001 e i 98, avevamo un'età media oggi in campo di 22 anni quindi squadra giovanissima e al cospetto di una squadra forte, organizzata, ben messa in campo siamo stati bravi e coraggiosi nel portarla a casa. Nonostante le tante assenze oggi si è visto un corato molto quadrato e soprattutto una difesa potremmo dire insuperabile Sì, siamo stati molto compatti, non ci siamo mai disuniti, sapevamo che loro era una squadra che ci aspettava per ripartire con i due ragazzi di colore davanti che sono molto veloci e quindi probabilmente sapevamo che avrebbero impostato la gara così, così come è stato Siamo stati invece molto compatti, non ci siamo mai disuniti, con grande spirito di sacrificio da parte di tutti i ragazzi perché hanno corso fino al 95esimo senza mai risparmiarsi Non solo la difesa ma anche fra Pampi, Lembaie e due esterni d'attacco hanno lavorato benissimo sulle due fasi chiudendo qualsiasi sbocco ai giocatori del Mola Sì, ripeto, avevamo lavorato tutta la settimana sul 3-4-3 del Mola lavorando con gli esterni sia in tutte e due le fasi ma al di là dei singoli io vorrei esaltare e elogiare la prova della squadra che è stata estremamente fantastica sotto tutti gli aspetti In conclusione, mister, una considerazione sulla prossima uscita contro il Real City? Sì, ho visto che ha vinto fuori casa, sappiamo che è una squadra molto compatta, ostica, una squadra di categoria adesso ricompattiamo il gruppo, riprendiamo gli squalificati che erano assenti oggi vediamo di recuperare anche qualche infortunato e poi andiamo a preparare questa gara importante di domenica